Musica Ciao a tutti ragazzi qua Emerald E finalmente siamo con un nuovo video nel nuovo server Yeah, insieme a me c'è Corvix Bella a tutti Allora, oggi vi facciamo vedere il nuovo spawner Il nuovo spawner, il nuovo spawner Madonna Ok dai, allora Diciamo che lo spawn l'abbiamo costruito quasi io e Corvix Sì, bloody hand E comunque allora, come vedete ci sono quasi tutte le vecchie strutture Alcune sono un po' cambiate Ad esempio il casino è il doppio più grande La zona del teleporter è diversa Esatto Abbiamo il megastore che è molto simile Diciamo Sì, diciamo Cambia di colori in sostanza Sì, infatti E poi abbiamo la piramide che è il doppio più grande forse Sì, il cambiamento e la cosa che non avete mai visto sono le siepi Le siepi ganze E infatti guardate le siepi che cambiano colore Una cosa davvero ultra figa E poi gli alberi questi qua Arco baleno, bellissime Quindi ragazzi, allora Dopo questo video Uscirà il video Del ringraziamento per i mille iscritti Che uscirà domani E questo video uscirà oggi Molto probabilmente Quindi ragazzi Io vi saluto E ci sentiamo al prossimo video Ciao a tutti Bella a tutti